Quattro giorni di controlli intensi volti alle verifiche amministrative sull'esercizio del gioco lecito. I carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, hanno passato al setaccio le 20 sale giochi della Val Pescara, controllando 147 macchinette tra news lot e video lotte di terminal. L'obiettivo da una parte era quello di verificare la regolarità del gettito fiscale attraverso il corretto collegamento degli apparecchi alla rete telematica e dall'altra garantire che l'utente usufruisca di macchinette pulite. È stata una maxi operazione che ha messo sotto controllo le sale giochi e i bar dislocati in tutti i comuni di competenza dei carabinieri di Popoli. Non sono emerse irregolarità. Una retata contro il gioco d'azzardo che così non ha prodotto risultati, in quanto le cosiddette macchinette sono tutte in regola. I giocatori possono stare tranquilli, i controlli si sono resi necessari, in quanto nella Val Pescara l'utilizzo delle slot è forte e proprio l'esistenza di questo fenomeno ha fatto scattare l'operazione dei carabinieri.